Avete mai sentito parlare di VPN? Probabilmente sì, perché le sponsorizzano praticamente tutti, ma funzionano veramente? Oppure sono una fregatura? Oggi cerchiamo di scoprirlo. Salve, oggi parliamo di Virtual Private Network. E per una questione di trasparenza tengo subito a specificare che questo contenuto è stato sponsorizzato da NordVPN, ma non hanno alcun controllo su quello che dico e soprattutto quello che dirò vale fondamentalmente per qualsiasi servizio di VPN. Prima però facciamo un passo indietro. Una VPN è un network, una rete, virtuale e privata. Non è nulla di incredibilmente rivoluzionario, sono tecnologie che venivano usate già all'inizio di internet, non tanto dagli utilizzatori normali, ma dalle aziende o da realtà che volevano magari tutelare particolarmente i propri dati o avere comunque la loro rete. Il fatto sta che il funzionamento è molto molto semplice. Invece che connettersi direttamente ai server per poi connettersi sostanzialmente con l'internet, ci si connette a degli altri server che stanno in mezzo, che sono quelli della VPN, che vanno a crittografare i nostri dati in entrata e in uscita, creando proprio un tunnel sicuro e inespugnabile dove da noi alla VPN nessuno può sapere niente perché è crittografato. E da tutto il resto dell'internet alla VPN siamo protetti perché siamo schermati dalla VPN, non compare il nostro IP, non compare niente di nostro. Quindi capite che la primissima cosa che garantisce una VPN è privacy e sicurezza. Questo non è fondamentale per quanto mi riguarda nel vostro wifi di casa, dove siete tranquilli e avete tutto sotto controllo, ma sicuramente quando si è in viaggio, quando si utilizza dei wifi pubblici, in ogni circostanza in cui potrebbe esserci qualche malintenzionato che vuole farsi i cavoli vostri. Qua si apre però un tema fondamentale nel senso che, ok, non mi fido del service provider, non mi fido del governo, non mi fido dei malintenzionati, ma teoricamente mi devo fidare della VPN, quindi sulla carta la VPN potrebbe essere lei che mi ruba i dati. Ed effettivamente è successo più di una volta che qualche VPN ha fatto la furbetta. Proprio per questo è fondamentale affidarsi a servizi affidabili e di fidare in primis dai servizi che sono gratuiti, perché se un servizio è gratuito, sorpresina, il prodotto sei tu. La cosa interessante di NordVPN è che utilizza dei server diskless, quindi i dati passano attraverso i server di NordVPN, ma niente viene conservato fisicamente. Oltre ad avere una serie di funzioni aggiuntive che permettono di avere un livello di sicurezza in più, c'è la possibilità di attivare il kill switch, ovvero il blocco della rete in caso di perdita di connessione della VPN, perché se per esempio si passa dal Wi-Fi al 4G, oppure da un Wi-Fi all'altro, oppure perdi la connessione per qualche tempo, potrebbe esserci qualche piccolo istante in cui un malintenzionato può effettivamente entrare e bypassare la VPN e col key switch la connessione viene interrotta per poi essere subito ripristinata dopo e quindi non ci sono buchi. In più, volendo, si può attivare il doppio rimbalzo, quindi anziché usare semplicemente un server VPN, se ne usano due che si rimbalzano i dati a vicenda e se qualcuno prova a tracciare qualsiasi cosa, si ritrova a fare avanti e indietro per l'internet. C'è poi, compreso nell'abbonamento a NordVPN, la treat protection, che va a bloccare in automatico file dannosi, siti dannosi o non sicuri, pubblicità e cucchi troppo aggressivi o forvianti. Insomma, a livello di sicurezza il pacchetto offerto da NordVPN è sicuramente interessante. Il secondo grande vantaggio, invece, è una conseguenza del fatto che ci si può connettere a server sparsi per il mondo. Nel caso di NordVPN sono oltre 5.000 server in 60 paesi, quindi tantissimi, e quindi si possono sfruttare i vantaggi di connettersi a un server in un altro paese esterno al nostro, simulando quindi che la nostra connessione provenga da quel paese. Questo cosa permette di fare? Permette di vedere dei siti che, per esempio, sono bloccati nel nostro paese o delle funzioni, dei contenuti, magari nel caso di siti di streaming. Sapete che il catalogo di tanti siti varia in base a quello che è il paese, soprattutto magari andando in uno stato che blocca magari determinati siti. Pensate alla Cina, che blocca praticamente qualsiasi cosa di Google, o la situazione attuale in Russia. Infatti, ultimamente, proprio da quelle zone c'è stato un boom di servizi di VPN, non a caso. Tra l'altro, per gli appassionati di Formula 1, vi dico questa chicca, che, devo essere sincero, io me ne lavo totalmente le mani, non ho capito se è legale al 100%, ma si tratta principalmente di un buco di regolamento, perché non c'è una normativa a riguardo. Però, siccome la Formula 1 in Svizzera è trasmessa in chiaro, usando una VPN e connettendosi al sito della radiotelevisione svizzera, volendo si può vedere la Formula 1 gratis. Poi, il commento degli svizzeri, con tutto il bene che voglio, è veramente tristissimo, e io non baratterei per nulla al mondo Carlo Vanzini, Marc Cene, Matteo Bobbi. Però, sapete che è un'opzione. Il discorso, secondo me, è anche molto più ampio, nel senso che, grazie ai servizi di VPN, ci sarà una sorta di democratizzazione e di proprio eliminazione delle barriere. Perché se io posso connettermi ovunque, fondamentalmente, evito che qualcuno abbia un monopolio. Favorisco il libero passaggio di informazioni, quindi molto bene. L'altra cosa, legata al discorso posizione, siccome un sacco di siti online fanno offerte diverse in base al paese in cui sono, collegandosi da altri paesi, si possono sfruttare le offerte di altri paesi, che potrebbero essere molto vantaggiose. Soprattutto per quanto riguarda i biglietti aerei. Anche perché le compagnie aeree fanno delle cose che non avete idea a tratti scandalose. Se cerchi un volo una settimana prima e la settimana dopo provi a cercarlo, magicamente i prezzi sono più che triplicati, spesso. Perché? Perché i vostri dati sono stati tracciati, e sapendo che siete interessati a quel volo, la compagnia o il sito di ricerca o comunque qualcuno ci marcia sopra. L'anno scorso, quando sono andato in Africa, sono rimasto stupito perché avevo cercato i biglietti. C'erano, due giorni dopo sono spariti, era finita totalmente l'economy class, quindi anziché spendere 400 e qualcosa euro, c'erano solo i biglietti da 1800 euro. Mentre collegandomi dal telefono con il 4G, quindi senza passare dal mio modem, e utilizzando NordVPN con VPN francese, su Marsiglia, se volete essere proprio precisi, sono riuscito a ritrovare il volo che volevo prendere a 400 euro. Mi ricordo che mandavo i messaggi al mio amico Pietro e mi sentivo un hacker. Fatta questa infarinatura generale, vi mostro adesso nel particolare come funziona l'applicazione di NordVPN. Questa è l'interfaccia principale, adesso non sono connesso, ma in modo semplicissimo, premendo il tasto Quick Connect, sceglie in automatico il server più veloce, in questo caso in Italia. Posso mettere in pausa, posso disconnettere, e posso andare a scegliere sulla mappa il server che voglio, e in pochissimi click connettermi. Per esempio adesso siamo in Germania. E basta, tutto il resto viene sostanzialmente fatto in automatico. E poi ci sono tutta una serie di impostazioni, si può scegliere addirittura il protocollo specifico, in questo caso lei utilizza NordLynx, che è un protocollo studiato per essere appositamente veloce, ma allo stesso tempo sicuro e affidabile, però volendo si può appunto cambiare. E poi ci sono le impostazioni dell'autoconnect. Come vi ho detto si può attivare la treat protection, in questo caso ci dobbiamo riconnettere, monitoraggio dark web, e nel caso di dispositivi Apple ci sono anche le scorciatoie di Siri. Poi vabbè, salite cosa, autenticazione da due fattori, e impostazioni varie. Tutto qua, tutto molto semplice. Bello, molto bello, ma quanto costa? Poco più di due caffè al mese. Tra l'altro con il link che vi lascio qua sotto in descrizione, potrete avere uno sconto esclusivo. Ma soprattutto c'è la prova di 30 giorni soddisfatti e rimborsati. Quindi il mio consiglio in ogni caso è, provate il servizio e poi fate le vostre considerazioni. Poi ci sono altri servizi come NordPass, NordLocker, appunto per le password, per criptare i file, insomma c'è tutto un ecosistema molto interessante, se volete dargli un occhio. Per dovere di cronaca parliamo sostanzialmente di qualche svantaggio delle VPN, ammesso e non concesso che si possa parlare di svantaggio. Punto numero uno, per quanto una VPN possa essere veloce, sarà tendenzialmente almeno un pochino più lenta rispetto alla connessione normale, perché devi fare dei passaggi in più. Anche se nel caso di NordVPN, perlomeno qui dall'Italia, da quella che è la mia esperienza, anzi vi faccio vedere. Non c'è trucco e non c'è inganno, andiamo ad accendere la nostra VPN, siamo connessi alla VPN di 228, andiamo a fare uno speed test, vai, vedete che non siamo connessi né a Fastweb, né a Vodafone, né a Tiscali, né a niente di niente, ma siamo connessi a questo Data Camp Limited, 25 di ping, 370 di download, e 202 di upload. Andando invece a chiudere lo speed test, togliere la VPN, andando a riaprire lo speed test, e rifacendo lo speed test, sono connesso adesso ai server di Tiscali, che è il mio provider, vedete addirittura in questo caso siamo leggermente più lenti in download, in upload siamo più alti, il ping ovviamente è molto più basso, infatti qua abbiamo solo i 4 millisecondi contro i 25. Ora gli speed test in realtà lasciano sempre il tempo che trovano, perché poi dipende dal server, dipende dal momento, dipende da che cosa si prova a fare, il fatto sta che con una buona connessione cambia molto poco, se dovete invece videogiocare, il ping a quel punto diventa molto fondamentale, e la VPN per sua natura ha dei passaggi in più, che vogliono dire millisecondi in più, non c'è nulla di incredibile. Altra cosa importante che per dovere di cronaca ci tengo molto a raccontarvi, riguarda il discorso diciamo controllo di eventuali governi più o meno autoritari. Ora, NordVPN va, funziona, io l'ho testato in Cina quando sono andato due anni fa e funzionava, ogni tanto però aveva dei problemi, i governi autoritari sanno che esistono le VPN, quindi un po' gli fa comodo e le lasciano utilizzare, un po' cercano di bloccarle, quindi se per caso fate un viaggio in un posto in cui sapete che vi serve fondamentalmente una VPN per lavorare, eviterei di fare affidamento solo su una VPN, non si sa mai, anche perché in caso purtroppo i servizi più conosciuti sono i primi a venire presi di mira, però insomma, a meno che non siate dei giornalisti o degli spie internazionali che hanno bisogno di avere chissà quale certezza, per tutelare la vostra sicurezza di tutti i giorni, e per sfruttare i vantaggi appunto di connettersi da vari server in giro per il mondo, NordVPN basta e avanza. Quindi spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi, ringrazio NordVPN per aver sponsorizzato questo video, ma soprattutto per supportare tutta la baracca e burattine. Ultima cosa fondamentale che va detta, per quanto una VPN possa garantire sicurezza e avere mille funzionalità, non vi rende immortali da qualsiasi cosa, quindi da una parte sappiate che se fate degli illeciti utilizzando una VPN, siete comunque in qualche modo rintracciabili. Dall'altra, se uno vuole fregarvi, il modo lo trova, quindi sempre stare attenti in generale in quello che si fa online. Non è che se vado in mezzo a una sparatoria con un giubbotto antiproiettili sopravvivo per forza, ho più probabilità di restare in vita, però stare attenti è sempre fondamentale. E nulla, ci vediamo prossimamente con prossimi video, prossime cose da approfondire e un sacco di cose interessanti. Ciao, 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 ciao.